La vita cristiana è fatta di peccati, ma anche e soprattutto di opere concrete. Cercare la giustizia, soccorrere l'oppresso, difendere la causa della vedova. Nella messa matutina a casa Santa Marta, Papa Francesco ha definito con chiarezza la strada della conversione quaresimale, allontanarsi dal male e imparare a fare del bene. Un cammino non certo facile, ma che non compiamo da soli. Il Signore ci accompagna e ci guida con l'amore di un padre, chiedendoci solo di essere umili, di non abituarsi alle cose brutte e di allontanarsi da quello che avvelena l'anima. Non è facile fare il bene, dobbiamo impararlo sempre. E lui ci insegna, ma imparate, come bambini. Nella strada della vita, della vita cristiana, si impara tutti i giorni. Si deve imparare tutti i giorni a fare qualcosa, a essere meglio del giorno di prima. Imparare. Allontanarsi dal male e imparare a fare il bene. Questa è la regola della conversione. Perché convertirsi non è andare da una fata che con la vacchetta magica ci converta. No, è un cammino. È un cammino di allontanarsi e di imparare.